Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Nell'ultima stagione del Grande Fratello, il pubblico ha assistito alla vittoria di Perla-Vatiero. Marco Maddaloni e Ciro Petrone si sono distinti per il loro entusiasmo esuberante, dimostrato durante una live, dove hanno pronunciato frasi poco eleganti, come quella famosa di Maddaloni, la nave è arrivata al porto, colpita e affondata. La serata della vittoria ha visto molti ex partecipanti esprimere il loro sostegno a Vatiero, ma l'appoggio di Maddaloni e Petrone è stato particolarmente marcato. La loro preferenza era palese fin dall'inizio alimentando ipotesi di un'avversione nei confronti di Beatrice Luzzi. Le loro parole, cariche di emozione, hanno trasmesso un sentimento di vittoria collettiva, con Petrone che ha enfatizzato, non è solo la vittoria di Perla, ma di tutti noi, evidenziando lo spirito di condivisione del successo. Questa edizione del Grande Fratello sarà ricordata non solo per il supporto tra i concorrenti, ma anche per la diversità del cast, che includeva sia personaggi famosi che non. E voi, cosa ne pensate delle parole diciamo così, poco sportive, di Maddaloni e Petrone? Esprimete la vostra idea nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.